Mattia Santori, è importante oggi andare a capire le radici dei partiti di destra e i loro legami con il passato fascista? O è un'operazione di retroguardia? Come sostengono questi partiti? Sono partiti ormai proiettati avanti e è un tentativo, diciamo, ma il destro è mio per quello di andare a vedere gli ultimi cascami fascisti. Mi devo ancora riprendere dalla scena tipo Simbar Leone di Santiago Pascal che parla questa comunicazione politica, continua a non capirla, ma in ogni paese. Beh, io credo che stiamo facendo un grandissimo favore a Giorgia Meloni perché è la persona che ha parlato di più questa sera e questo è un po' un nostro difetto, nel senso che io mi sono approcciato alla politica e quando si parlava solo di Salvini andavo negli studi in cui parlava solo Salvini pur non essendo presente e mi chiedevano solo di Salvini e vedo che dopo un anno e mezzo continuiamo ad avere un po' la stessa tendenza. E gli facciamo un favore perché se ci arriviamo per contrarietà loro continueranno a non dichiararsi antifascisti, continueranno a non accettare termini come uguaglianza di genere o termini come crisi climatica perché gli stiamo facendo arrivare nel nostro modo di pensare ed è evidentemente impossibile perché noi non lo faremmo con quello di un avversario politico. Io credo per commentare tutta la situazione che si è creata che semplicemente Giorgia Meloni abbia affrontato male una tempesta perfetta cioè ha avuto la sfiga che gli sono successe delle co-op perché Castellino e Fiore che dirottano una manifestazione no green pass oltre a fare uno sfavore e un danno enorme a chi era lì per manifestare legittimamente hanno fatto un super danno a quei partiti che tra poco si giocheranno le elezioni perché hanno fatto un grande assist. Questo combinato col fatto che aveva già un palco con Vox organizzato con l'inchiesta di Fanpage hanno messo sotto pressione una leader che comunque è una leader che per quanto forte, potente e arrabbiata è una leader giovane e io l'ho vista molto in crisi perché ha dovuto ritornare in Italia spiegando perché nel momento in cui veniva attaccata di infiltrazioni fasciste era con i neofranchisti a difendere il parmigiano e il patanegra e questo è stato un errore da parte sua e come succede spesso in politica si è complicata a sua volta la situazione. Alessandro Sallusti